La Finiti White è fucile per distinguersi. Franchi offre al mercato la Finiti White per coloro che pur non amando incisioni ed orpelli vari preferiscono un fucile semplice con carcassa bianca. Con la Finiti White Franchi dimostra di essere vicino ad ogni cacciatore. Franchi a Finiti White, il fucile camerato Magnum della Franchi è disponibile in calibro 12 con canne da 61, 66, 71 e 76 cm. Le canne sono brunette opache con merino rosso in fibra ottica e consentono di usare palline in acciaio, gli strozzatori disponibili nella confezione sono tre, una 3 e 5 stelle e lunghi 70 mm. La culatta particolarmente allungata insieme agli strozzatori lunghi consente rosate perfette con la riduzione della dispersione periferica di pallini. La carcassa Inergal 55 è trattata con ossidazione anodica chiara per resistere a qualsiasi condizione meteorologica. I legni dell'astina e del calcio sono in noce europeo di grado 2. Gli zigrini sono esclusivi Franchi con disegno 3D interlacement per il grip perfetto, il fucile è sempre ben saldo tra le mani. Il peso dell'Affinity White con canne da 66 è di 2 kg e 8,50. Il sistema di funzionamento è il fronte inerzia con testino rotante, la mola di recupero è alloggiata nella stina intorno al tubo serbatoio. Il TSA è il Twin Shock Absorber nella versione del Bensit, un insieme di schiume poli-rotaniche presenti nel calciolo, si espandono al momento dello sparo riducendo il rinculo fino al 50%. La spiccata maggiorezza del Franchi Affinity White è risultato della piattaforma di sviluppo ergonomico Franchi XS, sviluppata internamente dall'azienda. Grazie allo studio dei movimenti e delle abitudini viatori di più di mille cacciatori, è stato possibile creare fucile alle forme perfette. L'Affinity White è l'estensione naturale del braccio del cacciatore, la garanzia è di 7 anni sulle parti meccaniche. Nella confezione sono inclusi il manuale d'uso, la maglietta a porta bretelle e il fracone d'olio. Franchi FizzRite Franchi FizzRite